La birra Traction troviamo amici, prima di tutto perché è tanti anni che la facciamo e troviamo anche tantissime persone interessate al mondo della birra che in questi più di 20 anni è cresciuta, è cresciuto molto l'interesse e non può fare che piacere visto che siamo tra i pionieri della birra artigianale italiana. Nel 2018 la birra Traction abbiamo portato una novità che è la nostra birra nazionale gluten free, abbiamo già portato la birra nazionale lo scorso anno, avevamo anche vinto un premio e anche il birrificio dell'anno dell'anno scorso, quest'anno abbiamo voluto portare questa nuova versione per chi non può bere birra perché è cediaco, invece in questo caso ed è assolutamente una birra buonissima, ha le stesse caratteristiche della nazionale che è stata la prima birra 100% italiana fatta solo con materie prime italiane, questa è uguale però ha del riso italiano anche per abbassare la carica glutinica, quindi una novità per Valadè ma non solo ma anche per il mondo della birra. A birra Traction possiamo incontrare sia grossisti che publican, gente che è interessata ma soprattutto per noi è interessante per la fascia dei publican e dei grossisti. Noi abbiamo appuntamenti anche con il mondo internazionale e prendiamo l'occasione per incontrare quelli che vengono a visitare la fiera qui per relazionarsi o allacciare nuove relazioni. Grazie.